Le promozioni di ieri di Aquila, Montevarchi, Campobasso e Taranto nei gironi E, F ed H di serie D iniziano a dare le prime indicazioni su quello che potrebbe essere il girone B, definito centrale, della prossima Lega Pro. Aspettando di capire quello che accadrà nel raggruppamento D, dove Aglianese e Fiorenzuola, a 180 minuti dalla conclusione del torneo, sono separate da un solo punto. La Toscana torna numericamente ridimensionata nella terza serie, dopo le retrocessioni di Arezzo, Livorno, Lucchese e Pistoiese e con il Montevarchi che si aggiudica un girone che sembrava alla vigilia essere alla portata del Siena. Chiaramente mancano le iscrizioni in scadenza inderogabilmente il prossimo 28 giugno, qualora ci fossero dei forfè, anche il passaggio successivo che sarebbe di riempimento delle eventuali caselle vuote. Tuttavia l'Abruzzo dopo i due anni di meridione del Teramo potrebbe ritrovare coi bianco-rossi il raggruppamento B con una sola compagine o due è ancora da determinare perché secondo le prime stime al netto di quanto succederà dal punto di vista della burocrazia è ancora da decidere dove potrebbe finire il Pescara che balla tra B e C ma molto dipenderà ad esempio dal posizionamento dell'Olbia, da qui alla reale composizione. Un girone, quello centrale, che a nord andrebbe fino a Reggio Emilia e Piacenza quasi a contatto con quella Lombardia che sarà certamente la regione più rappresentata in Lega Pro nella stagione 21-22. Dunque mancherebbe solo una tra Aglianese e Fiorenzuola, poi quattro Toscane, Carrarese, Pontedera, Grosseto e Montevarchi sei Emiliano Romagnole, Imolese, Cesena, Modena, Carpi, Reggiana e Piacenza quattro Marchigiana, Immatelica, Fermana, San Benedettese e Vispesaro due Laziali, Viterbese e Monterosi, una Umbra, Gubbio e una Abruzzese, Teramo per l'appunto e una Sarda, Lolbia, che però tradizionalmente spesso è inserita a nord per via dei collegamenti aerei poi ci sarebbe una questione ulteriore, inserire il Pescara a Meridione appesantirebbe ancora di più un Girone C che già vede la presenza di tantissime piazze di grande blasone Bari, Palermo, Foggia, Avellino, Castellammare di Stabbia, Caserta, Catania mettere in un raggruppamento del genere anche il Delfino renderebbe infernale il Girone C e molto, troppo morbido quello centrale con un evidente squilibrio di valori tanto da penalizzare troppo chi geograficamente si trova a qualche chilometro più a sud di qualcun'altra un Girone C che troverà il neopromosso Campobasso, che ritrova la terza serie unica dopo oltre un tentegno e anche il Taranto, per una definizione più certa dei gironi però servirà almeno metà del mese di luglio per vedere chi ci sarà e chi no in primis e poi per capire chi prenderà il posto degli eventuali assenti in corsa